La seconda classificata di questa sera è la concorrente con il numero 49, Raffaella Modugno! Miss Curve! Mettiamo la fascia! Ma guarda, non so perché, Maracuela, io sento che per te è un bell'anno questo! È un bell'anno? Dai, 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 incrociamo le dita! Ci vorrebbe un po' di vittoria nel Lazio, eh? E allora, grazie alla signora Terenzi, grazie a Roberta Trapani! Una bellissima passerella per te! Raffaella, è tutta tua! Allora! Vola nella premia finale di Miss Italia, l'arianese Raffaella Modugno, doppia fascia per lei, conquistata nel giro di pochi giorni dal titolo di Miss Curve d'Italia, Elena Mirò, passaporto per il concorso nazionale di Salso Maggiore Terme, a quello di Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2011. Applausi per Raffaella Latina in Piazza del Popolo, dove il pubblico ha tifato per lei in ogni sua passerella. Nonostante la presenza in gara di ragazze locali gettonatissime, a partire dalla romana Ilaria Rocchetti, eletta Miss Lazio 2011. I nuovi titoli Miss Curve d'Italia, mamma mia! Quanto sei alta! Eh sì, un po' di tacco! No vabbè, il tacco aiuta sempre! Complimenti sei, meravigliosa! Poi un titolo... Finalmente perché noi queste ragazze magrissime non le vogliamo! Ecco! Certo, quest'anno sono a tuo favore, l'anno prossimo passo dall'altra parte! Come ti senti? Beh, questa per me è la mia seconda esperienza e non ci si abituo mai a questi tipi di emozioni. Ho ripartecipato perché quest'anno me ne sono approfittata di questa nuova fascia, mi sono sentita tirare in ballo ed eccomi qui. Perché Manila Raffaella ha già partecipato ed è arrivata tra le prime 15 nazionali, quindi per il risultato. Siamo amiche perché anch'io ho partecipato due volte. E alla seconda hai vinto! Alla seconda ho vinto! Raffaella, guarda un po', eh! Che sia di buon auspicio questa cosa! Tocca la pancia che porta bene, vai! E forza, dai, dai, dai! E quando parte da una parte? Voi le incontrate per strada, dopo che sono uscite in televisione, mi raccomando, ricordatevelo, perché adesso non le applaudite. Poi magari le incontrano per strada e dicono, però, 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 così succede. Quindi fidati! 56 le concorrenti che si sono contese il titolo più importante, quello di Miss Lazio, che dà diritto di accedere alle finalissime nazionali senza dover disputare le prefinali. 49 il numero di Raffaella accompagnata nell'avventura di Latina da genitori e nonni. Un nuovo importante tassello nel mosaico della bellezza di Raffaella Modugno, molto conosciuta ed apprezzata a Roma per innumerevoli apparizioni nel campo della moda ed eventi di prestigio nella capitale. Come nel 2007, anno importante per Raffaella, il sogno della corona di Miss Italia per lei è già cominciato. Se l'amore è davvero buono, solo una cosa, anche se l'amore, anche se l'amore, 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 l'amore. Allora, l'amore, 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 l'amore. Allora, l'amore, 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 l'amore. Allora, voglio anche le stelle, voglio anche le stelle.